Ciao a tutti e molto a questo video di Metis of Lotus, oggi vi portiamo in anteprima mondiale una notizia su un leak, cioè in realtà non è l'anteprima mondiale, ci sono già degli articoli in giro, però non ho visto altri video, soprattutto in italiano, sull'argomento e quindi noi ovviamente siamo sempre sulla cresta dell'onda per portarvi le notizie. Allora appunto come da titolo ci sono dei leak per quanto riguarda Bloom Borrow, per chi sta vedendo il video ho messo bello grande appunto di cosa si tratta, adesso andiamo poi a descriverlo, ma prima di cominciare vi invito a lasciare mi piace, commentare, iscrivervi al canale, soprattutto abbonarvi che è la maniera più diretta per mandare avanti la baracca ad aiutarci. Inoltre vi ricordo il codice sconto Lotus 5, quindi dal 5% di sconto sui prodotti non già scontati da Fantasiastore.it, uno dei negozi più forniti d'Italia e più veloci nelle spedizioni. Cioè io ho ordinato delle carte insieme agli altri ragazzi del canale, sono già arrivate, infatti ho fatto una foto su Instagram che sono gli Diabolic Intent vecchio che da un po' che cercavo e un'altra carta per Commander Multiplayer, la Terra BG. Allora dai e cominciamo con il video. Prima di tutto cerchiamo un attimo di descrivere cos'è questo prodotto. Allora, Bloom Borrow è il set che uscirà il 2 di agosto, quindi molto in là rispetto a quando sto registrando. Prima cosa. Seconda cosa, questo è un prodotto che non è detto che sia al 100% real. Lo è molto probabile, non ho ancora ricevuto né notizie di... smentita né notizie di certezza. Però il problema qual è? È che essendo un leak non è... insomma, non te lo confermano perché giustamente chi lo produce non voleva far uscire la cosa. Ma sembra abbastanza originale. Adesso vi spiegherò anche perché. Allora, praticamente questo è un cofanetto con dei prodotti bonus. Creato da Beedle & Grimms. Allora, Beedle & Grimms, andiamolo a prendere qua, è un'azienda che si basa, produce prodotti nerd. Tra l'altro spedisce anche in Europa, infatti c'è il prezzo in euro. No, non siamo sponsorizzati all'oro ragazzi, ve lo sto giusto descrivendo in caso non lo sappiate. Io non ho mai comprato da loro, tra l'altro. Non conosco i loro prodotti perché magari qualcuno di voi l'aveva notato, avevano fatto uscire la limited edition di prodotti molto molto fighi di Kamigawa. Infatti, se vi ricordate, c'era questo zaino Neo Dynasty con tappetino, ecco qua c'è tutto l'elenco, tappetino, statuette, deck box, sleeve, memorabilia a caso come queste monete che sono tipo quelle che hanno i gatti, il gatto giapponese della fortuna, la mappa, questo dovrebbe essere forse un portachiavi kabuto, con appunto il kabuto con l'oni. Comunque, tantissime cose di Kamigawa. Ovviamente ufficiali, perché è una cooperazione sponsorizzata, patrocinata, partecipata dalla Wizard, con il marchio ufficiale, infatti Magic Gathering. Non fanno solo questo, fanno tantissime altre cose, come anche Dungeon & Dragons e così via. Perché ve lo sto dicendo? Perché appunto rafforza un po' il fatto che sia effettivamente un prodotto vero, cioè che probabilmente faranno. E quindi che cos'è questo prodotto? Appunto è un cofanetto che contiene oggetti dedicati a Bloom Borough, token set si chiama. Quindi sarà un prodotto, se è vero, più piccolo, non robe giganti come l'altro, o comunque magari usciranno anche altre cose, questo sarà parte di una possibile scelta di prodotti. E infatti qua, questa locandina che è liccata, c'è scritto Available dal 3 di agosto, quindi plausibile perché il 7 esce il 2. E tra l'altro i prodotti mostrati sono abbastanza veri. Allora, cosa c'è in questo prodotto? Allora, beh, dei dati, Metal Life Counter, che ci interessa relativamente poco, perché tanto questa è una cosa che c'è in un casino di prodotti. Allora, 7 token di alluminio, che adesso poi andremo a vedere, 3 token pesci 1-1. Quindi ci sta, potrebbe essere un set che ha i token pesci, perché è un set che si basa non sui umani, anche se i fish non sono stati messi nell'elenco di creature che saranno in questo set. Però l'elenco non è che era completo, l'elenco di set si basa su le lontre, i conigli, insomma animali carini, però potrebbe anche essere che ci stanno i fish, non è un problema. Quello che invece però ci aiuta abbastanza a capire che forse è un prodotto vero sono il token coniglio, perché ovviamente i conigli ci stanno, infatti per chi guarda il video c'è questo bel coniglio qui, tutto puccioso, con il bastoncino, 1-1. Vabbè, il food token, che anche lì vuol dire niente, però è bello. Ma principalmente questo qua, war and war leader, che tra l'altro potrebbe essere anche un leak di una carta che ci sarà in futuro. Per questo token non si riesce a leggere benissimo, ma praticamente dice crea un coniglio 1-1 quando attacchi, una roba del genere. Magari qua sull'articolo, che tra l'altro ringrazio perché l'ha messo su Star City Games questa cosa, quindi citiamo le fonti. Si, parla di un coniglio che praticamente quando attacca puoi creare un rabbit 1-1, quindi di nuovo quello di fianco a lui. token tappato attaccante e dai più 1-1 tappato attaccante o dai più 1-1 alle tue creature attaccanti, quindi fa due effetti. Questo qua tra l'altro sotto ha scritto che ha il costo di mana, anche se è un token, di 2 più un bianco. Quindi sostanzialmente create una, dovrebbe essere una copia del War and War Leader, che probabilmente è una creatura che ha un costo normale, fa delle cose, solo che un 1-1 token ha questi effetti. Cioè quando attacchi o crei un coniglio tappato e attaccante 1-1, o dai più potenzi di altre, tutte le tue creature attaccanti. Perché ha senso questa cosa che voi direte, dici ma Isma, perché secondo te è originale questa cosa, che senso ha con il set? Ve lo spiego. Perché se vi ricordate, ho parlato del set di Blown Borrow in passato e hanno già spoilerato un'abilità, il nome di un'abilità, senza dire cosa sarà, del set, cioè Offspring. E io se vi ricordate avevo anche detto, secondo me Offspring sarà tipo crea una copia della creatura, ma in versione minuta. Quindi il classico crea un 1-1 con gli stessi effetti della creatura originale, ma appunto piccolina, come se fossero i figli. Tra l'altro c'è una carta di Magic, un incantesimo, che si chiama tipo Offspring Revenge, una roba del genere, che praticamente è un incantesimo tricolor, se non sbaglio, di Ikoria, che praticamente fa sì che tu crei appunto l'Offspring, cioè fai delle creature 1-1 di altre creature che ci sono morte in pratica, che sono identiche a quella che è morta, solo con un token 1-1 con il resto dell'abilità. Quando voi fate la copia di una creatura, un token copia, il token copia anche i valori, quindi copia il costo di mana, e quindi per questo questo token ha scritto sotto che costa 3, per ricordarti che, ok, è un token ma ha un costo di mana. Quindi, tutti questi legami, tutti questi link, mi fanno dire che, secondo me, è originale, e che effettivamente questo potrebbe essere lo spoiler definitivo, il leak, insomma, più che spoiler, dell'abilità Offspring, che effettivamente ci sta anche molto tematicamente, perché già avevano introdotto quella carta, appunto, Offspring Revenge, la wizard tendenzialmente, quando fa questi effetti che vedono, che piacciono ai giocatori, piace come senso logico della cosa, cioè, ok, fare questa cosa qua del piccolino che ha la stessa abilità del genitore, chiamiamolo così, ma appunto la versione piccola, e ci sta a chiamarlo, Offspring ci sta, mi piace, ha senso, loro poi la fanno passare come abilità, e quindi poi la ufficializzano, quindi non mi sorprenderei che effettivamente questo sia appunto l'originale, che quindi, allora, avremo il prossimo set con varie creature che hanno questa abilità di generare le copie di se stessi, ma più piccoline. Ovviamente su questa carta non c'è scritto altro, c'è solo scritto il costo di mana, e non c'è scritto, quindi, come è generata. Quindi, non avevo la certezza che sia Offspring, come appunto già detto inizio, non avevo la certezza che sia originale, però, mi sembra tutto abbastanza logico, ecco, dato tutti quanti, insomma, gli indizi che abbiamo avuto fino adesso. Allora, sono giunto alla conclusione di quello che devo dirvi, questo prodotto sinceramente a me sta gasando abbastanza, perché mi dà molto le vibes come di Lorwin, poi a me i set tribali piacciono tantissimi, un ritorno di un set senza umani, dai, oh, alleluia, basta umani, perché sono spammati ovunque. Non lo so, mi sembra molto molto bello e peculiare. Mi spiace solo che non è un set con gli elfi e le cose più classiche, perché sono più un tipo da... Ok, anche gli umani, eh, non mi spiace che ci siano ovviamente più di tanto, però più con le classiche creature da fantasy, insomma, con gli elfi, goblin, queste cose così, ma con un set con le creature pucciose non è affatto male, e soprattutto anche il design sembra anche molto carino. Quindi ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate, se secondo voi questo leak è qualcosa di originale, è qualcosa di finto, se ci sta che l'abilità offspring sia effettivamente questa, cioè di fare la versione piccolina, insomma, i vostri feedback è come sempre. Vi ringrazio per aver guardato il video come di consueto e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao e fate i bravi! Grazie.